buongiorno dobro jutro guten morgen bondi si sa che te vite si può essere stave dranz no o non l'ha chiatta della persona giusta che l'altra è stata abbandonata l'ha chiatta di una botte che va via gobo per tutta la vita e non l'uoli impacciarsi con il femminismo oppure si può essere stave dranzo vedranzo per scelte ogni mut anche se la vedranzo io sia il giude in ogni caso è proprio anche delle difficoltà se la puoi grandi che sia a vivi di bessoi anche il matrimonio alle una scelta e chiamo fatta in due e non come te pierdi tant'impa spiegace mut che anche tal matrimonio sia tante difficoltà sala in davanti poi bene all'era un predi che aveva chiatta di una femmina disponuta anche a sposarlo e alle laddi perché con placere anche di ci hanno di fa molanti fa il predi ha di sposarmi o no e perché ecco gli ha detto chiamiamo spositi non spositi tutti pentirà sempre buone giornate e buone vite